Oggi altri 92 positivi in più in Terriblea, sale quindi a 1.466 il numero dei contagi contro i 1.374 di ieri, resta invariato a 44, invece il numero dei ricoverati nei due ospedali di Ragusa e Vittoria, mentre sei si trovano in RSA Ragusa. I ricoverati al Giovanni Paolo II sono 37 e di questi quattro si trovano in terapia intensiva. Fortunatamente nessun decesso nelle ultime ore, nel dettaglio invece in grafica adesso i positivi al Covid in isolamento domiciliare distribuiti nei vari comuni della provincia. Rimane stabile la situazione ad Acate, sempre 13 positivi, meno uno a Chiaramonte, oggi 18, ma più nove a Comiso, oggi 121, Gioratana sempre 8, Ispica 22, Modica sale di 8, oggi 111, Monte Rosso 1, Pozzallo 126, Ragusa 230, Santa Croce 140, Scicli 111, Vittoria sale anche oggi con ben 66 positivi in più in isolamento domiciliare, questa mattina 515. Il Comune Ipparino quindi continua ad essere con i suoi 66 positivi in più, quello che preoccupa maggiormente con numeri che avanzano di giorno in giorno e dove il contagio sembra ormai fuori controllo. Secondo le disposizioni dell'Unione Europea, Vittoria dovrebbe infatti già essere zona rossa. Sulla base delle regole italiane invece ci sono ancora dei margini di libertà perché le zone rosse si stabiliscono secondo i nuovi parametri relativi ai ricoveri ospedalieri. Un incremento giornaliero, pressoché quindi costante, che interesserebbe soprattutto, si parla del 90% dei casi di positività e ricoveri di persone non vaccinate. Nel centro Fiere, l'azienda sanitaria provinciale ha ripreso ad effettuare tamponi a ritmo elevato ed anche per questo i numeri dei nuovi positivi iniziano a farsi sentire. Se i contagi e i ricoveri continueranno ad aumentare con il trend attuale, almeno tre regioni adesso rischiano di entrare in zona gialla prima della fine di agosto. Addirittura, entro due settimane, la Sicilia è quella che sta messa peggio con un'incidenza di 80 nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti che resta in zona bianca, solo perché i posti occupati in area medica e in terapia intensiva sono ancora sotto le soglie del 10 e del 15% fissate dall'ultimo decreto del governo. L'isola è rispettivamente all'8 e al 4,7%. La variante Delta è responsabile ormai di oltre il 90% dei contagi e in Sicilia in particolare viaggia sulle gambe dei giovani. La fascia d'età più infetta è quella tra i 19 e i 24 anni che socializza ma non vuole vaccinarsi. La scorsa settimana in 465 hanno contratto il virus e solo la metà aveva ricevuto almeno una dose di vaccino. Il coronavirus circola anche fra i teenager dai 14 ai 18 anni che a settembre torneranno a scuola. Quello che si teme e si tenta di scongiurare adesso è un caldo ferragosto all'insegna di nuove e più drastiche misure restrittive. L'isola tornerebbe quindi a rischiare la zona gialla e dal governatore Musumeci l'ennesimo appello a non vanificare gli sforzi fatti fino a oggi.